Era già tutto previsto, come la canzone di Riccardo Cocciante che Paolo Sorrentino, la divosione Napoli ha usato nel suo ultimo film Partenope, perché anche questa vittoria del Napoli è in perfetto stile contiano, quindi era previsto che giocasse così e che andasse subito in vantaggio, magari che poi difendesse basso e ancora una volta non ha preso gol nella sua area, magari ne parliamo tra poco Stefano. Secondo titolo, Milan telefonato, perché 0-2 è il prefisso di Milano e il Milan ha dato la sensazione al secondo tempo di poter attaccare per giorni e giorni senza mai sporcare i guanti a Meret e la pochezza delle riserve del Milan che Fonseca ha dovuto schierare stasera è uno dei temi, secondo me, anche in ottica stagione lunga. E una di quelle squadre, andavo a vedere le partite che ha fatto, che tutti sembra che rimpiangono qualche cosa, cioè ti dà sempre la sensazione di dire caspita potevo fare qualche cosa in più, ma le mie occasioni ce le ho avute. Pensare un po' di Napoli, Napoli-Parma, Napoli-Como. Cagliari-Napoli, tutte queste partite qua che tu dici caspita sì, potevo fare di più, ma ho sempre la sensazione che forse gli faccio qualche cosa, gli posso far male? Mai. Una squadra che fa primo posto, decimo posto, ed è il suo primo. Eh certo. Cerco con bene o male gli stessi uomini qualche piccola modifica del tema. Si chiama Conte, come dire, l'X Factor a parte, buongiorno McTominie, e in misura minore Davide Neres. Sono d'accordo. Osimena era più o meno, anzi, forse il Napoli c'era un po' perso. È un grande spot per chi dice che l'allenatore conta. Le altre risposte, eh sì. Ma che, ragazzi, l'allenatore sposta più di tutti. Ho capito, ma da primo decimo, da Spalletti a García Mazzari. Sì, ma prima c'avevo un fenomeno, che era Spalletti, e infatti vinci il campionato con un fenomeno, che Spalletti è un fenomeno. Fai un anno così così, però lì c'è anche un aspetto psicologico di appagamento. Sono primo, ho vinto il campionato, quindi c'è comunque sia... Ha fatto anche un po' di confusione dell'Aurentis. Quest'anno rimette in ordine bene le cose, riprende un altro grandissimo allenatore. Voglio dire, determinati risultati si vedono. E fa anche un bel mercato. Chiudete gli occhi di tutti e tre. Chiudeteli. Ok. Il Milan ha preso Conte quest'estate. L'annuncio è stato dato il 21 di luglio, un po' in ritardo. No, 21 giugno. Napoli ha preso chi volete voi. Quindi il Milan, da quattro mesi, tre mesi, è allenato da Antonio Conte. Raccontatemi in 20 secondi la partita di oggi e la classifica dopo la partita di oggi. Parti tu, Giuseppe Pastore. Il Milan con le stesse formazioni? Sì. Il Milan va oltre l'assenza di giocatori importanti e imposta una partita di grande sacrificio. con Leao lasciato per 25 minuti senza prendere una palla, ma la risolve con un calcio piazzato. Gol di Tomori, 1-0. E finisce così. Secondo. Dietro? Dietro l'Inter.